Escluso completamente dai rimborsi per le gravi perdite sostenute in tempi di pandemia, il settore dei grossisti. Se è vero che supermercati e negozi sono stati sempre forniti, la filiera ha subito gli effetti della crisi economica e se le grandi aziende riescono ancora a reggerne l'impatto, ve ne sono molte anche di medie e piccole dimensioni che invece sono in sofferenza. A Venezia, Confcommercio Città Metropolitana ha calcolato i costi del Covid in questo settore e fa appello al governo che verrà. Il decreto ristori, i vari aiuti statali non hanno riguardato i distributori, i grossisti. Il governo si è concentrato sul consumatore finale e sull'esercente, il pubblico esercizio, quindi i ristoranti e bar, con ristori peraltro molto modesti. Però non ha stanziato nulla per la catena, la filiera, quindi il grossista è stato lasciato completamente fuori. Abbiamo fatto uno studio, verificato tramite i dati della Camera di Commercio, in provincia abbiamo oltre 5200 imprese che si occupano di vendita all'ingrosso, di queste oltre 700 di prodotti alimentari, tra bevande e alimenti. 700 imprese del settore alimentare che sono state messe in ginocchio della distribuzione, in sostanza perché la chiusura di ristoranti, degli alberghi e dei bar ha bloccato completamente l'attività di distribuzione. Nella sola Venezia si parla di cali del 90% del fatturato. A livello nazionale, secondo i Tigrob, che è il sindacato dei grossisti, si ipotizza un callo di 10 miliardi di fatturato pari al 40% del fatturato. Una cosa molto grave, molto allarmante e soprattutto, ripeto, senza aiuti da parte dello Stato. La cosa ci ha preoccupato molto e intendiamo sottolinearla fortemente. Noi vediamo le brioche calde al mattino al bar o il pesce fresco alla sera al ristorante. Non pensiamo quante centinaia di camion, quanti trasportatori, quanti magazzinieri ci siano alle spalle di tutto questo per consentire che ogni giorno tutti quei prodotti arrivino sulle nostre tavole, in sostanza. Quindi colpire un settore della logistica così importante potrebbe significare anche rendere difficile poi la distribuzione durante l'estate prossima avventura, che tutti ci auguriamo sia finalmente degna di questo nome.